Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Davide di Link Motors Pavia e oggi parliamo di una bellissima Clio RS Profi la vettura si presenta molto bene, pensate che è del 2015, sembra nuova ha 120.000 km, tutti i tagliandi sono certificati Renault e ha solo due proprietari la vettura è completamente stock, quindi non ci sono particolari modifiche abbiamo i suoi cerchi dedicati RS, c'è un qualche segnino, la spalla è molto piccola ma in generale, come vedete, a parte i cerchi, l'auto si presenta bene abbiamo uno scarico aftermarket, solo il finale abbiamo disponibile anche quello originale, la macchina è stata Renault poco fa quindi è completamente controllata e come vedete non abbiamo segni di particolare tipo gli interni hanno ovviamente tutti i tratti distintivi delle trofi come il battitacco, i sedili qui abbiamo un minimo di usura ma la salita e la discesa su questi sedili è sempre abbastanza difficoltosa perché sono molto contenitivi, abbiamo i paddle al volante e ovviamente cruise control, luce automatiche ma abbiamo tutto, c'è tutto quello che si possa desiderare e forse anche di più su una Clio RS per il resto che dire, la consegniamo pronta all'uso come sempre venite sul nostro portale di Link Motors per scoprire quale sarà il prezzo di questa macchina ciao